Ma hai detto? Qua c'è invece una gabbia Ma come è andata il più giovane? Ah non lo so io Guardate qua il lido Perella Ma che bella Non so se è una cantina Questa gente è una cantina Perché lì c'è anche una boa Ma beh Ecco, questo qua è il lido ragazzi Quello lì Il lido di paradiso, magari verrò qua a lavorare Sappiate Magari verrò qua a lavorare Va a controllare anche te che non affonda E qua c'è anche il cigno Eccolo, lì sotto il cigno Cigno Eccolo Il cigno E altre paperelle Sì, sembrano un po' Quelle papere ammazzamate del Safari Park Poverine Del Safari Park Guarda tutto sotto E' una rana E' una rana E' una rana E' una rana e col signo di questi codici guarda, guarda il partito di nuovo ora parte al... si vado a scantare dai, andiamo De De Mr. MJ Star cosa fai Loris? I'm gonna Mr De Mr. MJ Star ah ah you gonna Mr De Mr. MJ Star you gonna Mr De Mr. MJ Star you gonna Mr... Loris 98 MJ Star l'abbiamo la nuova fermata Domenico, via Domenico Fontana eccola la ragazzi è già la seconda volta che dovevamo filmarla ma è dedicata a Domenico Fontana veramente Domenico non lo so eh domenica o martedì ma guarda oggi è divertente eh ma infatti ahahah addosso ad un albero ma no che è una fontana con te no questo non è una fontana che non c'è neanche una fontana la vabbè vabbè ci vediamo dopo ragazzi al Cine Star con te Mr. MJ Star Cine Star con te Mr. MJ 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 Star ci vediamo dopo Cine Star, Super Mario ragazzi film di Super Mario Bros a dopo guardami oh mio dio ma non filmare eh guardalo eh guardalo eh non filmare eh guardalo eh guardalo Ilotico e si muola proprio ah eh ti è visto si muola ma che si scorda guarda guarda ora ho lo scattolo Come si trova di me În morto 2 caspita voli e continua a volare lui tengo 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 aia che botta ok stavolta andato cine star finalmente ci siamo è con te mister in gestare arrivati ragazzi sto trollando degli amici però non vedrete però abbiamo riempito tutta la fila di a quanto pare è vero video extra quindi super mario e let's go ecco qua super mario bros il film let's go oh luigi time oh yeah oh 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 lì ragazzi qua ci sono tutti fuori le altre proiezioni qua che vediamo eccole qua sale a 3 ma quando andremo lì ragazzi grazie sale pepe pepe vabbè sale pepe sas qui c'è la sala 4dx c'è anche qua super mario da notare ragazzi eccolo qua super mario anche qua ecco ok ok tac sono tre sì questo è di qua subito di qua 3a in caso no 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 imi hexagoooo iuhuuu si entra vai siano benissimo oh no siamo benissimo ciringhe fino a d eccoci qua eccoci qua perché ci sono andati nella sala 3 qua cio 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 にちご tibambio come tu e Va bene Loris, basta Sala 3 Boom, stai andiamo E c'è una luce che non va ragazzi Praticamente sta sala E che è spinta? Fail Spinta Eccola qua allora la sala Questa qua è la sala 3 Occio eh Occio perché Se spengono le luci così a caso Fa tempo ad abbassare le luci Tutti esperti di Super Mario Tutti esperti di Super Mario E' esperti di Super Mario 860 Ecco qua Questa proiezione con pausa ragazzi Ci faccio uno sticker M&M's Arena A nera A nera Ma non stavi mangiando Migo posso fare una battuta qua A nera o a bianca A nera o a bianca Ragazzi Ragazzi Pop pop Oh questa è bella Questa è bella Beh con pausa va bene Ragazzi buon film a tutti Qua c'è stata la fine della prima parte Ragazzi è veramente bellissimo Ma te cosa ne pensi Migo M&M's Arena M&M's Arena M&M's Arena Nella seconda parte ragazzi A dopo Mezzami Usciamo allora Dalla sala 3 ragazzi Verso l'uscita M&M's Arena G-Star M&M's Arena Ciao 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 Bene ragazzi Bene bene Siamo dalla sala 3 Rivederci sala 3 Super Mario molto bello E te hai visto come l'hai trovato Ma lori Sulla fine succede sempre che C'è nero Li fai dopo Tenti sempre te E beh ma molto bello comunque Bene anche i personaggi Di altro lui Do King Kong Sì beh Toad Vabbè poi vabbè Toad eccolo qua No ma cosa stai facendo Gli stai poverino Gli stai addrizzando il coso Sei rotto Sei rotto Fine C'è pitcher Ecco Ecco il Super Mario Bowser E' stato sconfitto chiaramente Ragazzi ci vediamo al prossimo video E' tutto dall'ora 98 E datemi stare in gestare Ciao Ciao a tutti E alla prossima